Dopo il Torino Comics, il Mogu Day a Vercelli e il primo Fantasy & Games di La Spezia, altri due importanti appuntamenti con gli appassionati. Sabato 18 giugno alle 16, Galado Piaggio del Cospladia a Palermo e sabato 25 nella giuria della gara cosplay dell'Hard Rock Cospride di Beinasco, Torino. Ci si becca molto presto!